28 marzo 2023 beccata la marina americana che sta volando non si sa se sta spruzzando meno la marina americana che sta volando sopra il wyoming 28 marzo 2023 abbiamo i traditori della marina con una grande scia sopra il wyoming del nord perché la marina militare sopra il wyoming sta spruzzando alla quota di 9.400 metri in un viaggio che lascia vedere un mucchio spruzzano ovunque per qualche ragione ecco i traditori beccati aggiungo che tutto quello che state vedendo qui succede quotidianamente sopra i cieli di tutte le nazioni del mondo italia compresa ma nessuno fa più niente e non dite che serve per far piovere perché ci raccontano sempre il contrario della verità stanno rendendo arida la terra e stanno coprendo il sole ogni giorno sempre di più e voi incapaci di vedere mentre siete inchiodati sui vostri device cerco di rimanere a fuoco sui traditori sarebbe da mettere una corda al collo a questi traditori lontani tutto quello che meriterebbero ha finito pesanti erroramenti quotidianamente questo è il loro lavoro ovviamente osservate che lunga attraversata creata dai traditori della marina militare americana guardate le persone dovrebbero rendersi conto di come stanno spruzzando in questi giorni ovviamente ma la gente parla di questo adesso è pesante che scherzo bestiale ricordo per chi ama farsi le proprie ricerche indipendenti che avete a disposizione numerosissimi argomenti attraverso la playlist geo ingegneria che raccoglie documentazioni dal 2016 da questo canale youtube o tramite il fornitissimo indice alfabetico del sito web www.tinelli.eu sempre a disposizione il risveglio in bianco e nero nella versione cartacea ma a colori nel formato ebook